Ciao, ti presento Gianni, Franco e Maria. Gianni è un piccolo commerciante, ha un negozio di vestiti in centro ed è conosciuto dai suoi clienti come una persona in gamba, disponibile e sempre di buon umore. L'attività in negozio nel corso del tempo ha vissuto periodi di alti e bassi con i clienti che riempivano il locale in particolari momenti dell'anno mentre in altri periodi sembravano essere completamente spariti. È quella cosa, oggi sono pieno e avrei bisogno di una persona che mi aiuti mentre altri giorni non c'è nessuno e non posso permettermi di pagare qualcuno che stia qua a far nulla. Franco e Maria sono liberi professionisti. Franco è un consulente immobiliare mentre Maria lavora nel social marketing. Che cosa hanno a che fare l'uno con l'altra? Apparentemente è nulla ma entrambi ogni giorno hanno bisogno di divulgare al massimo la propria attività per poter incontrare persone interessate. I metodi per entrare in contatto con un pubblico generico sono molti, anche se non sempre economici e non sempre specifici. Franco e Maria insieme a Gianni stanno cercando un sistema per riuscire a comunicare con i propri clienti nel modo giusto al momento giusto. Sfruttare il cosiddetto marketing di prossimità. Fortunatamente per loro oggi ci sono i Beacons. Con la nuova tecnologia possono inviare notifiche agli smartphone vicino a loro in maniera discreta e senza che questi abbiano installata alcuna app. I Beacons sono semplicissimi strumenti che trasmettono ad una distanza di pochi centimetri fino a 100 metri una notifica che viene visualizzata dagli smartphone Android che hanno Bluetooth e geolocalizzazione attivata. Oggi gli utenti con questi servizi attivi sono ben il 40%. In costante aumento ce lo dice una recente ricerca Google. Questo vuol dire che il 40% di tutte le persone che passeggiano davanti al tuo negozio o che sono vicino a te riceverebbero il tuo messaggio. È incredibile vero? Franco e Maria che non hanno un locale ma lavorano muovendosi molto decidono di usare il proprio Beacon come porta chiavi così da inviare il proprio messaggio a tutte le persone nei paraggi in ogni luogo dove si trovano. Una notifica che porta il cliente potenziale ad una pagina personalizzata con un messaggio che possono modificare quando vogliono. Il futuro del marketing di prossimità sono i Beacons. Acquistali oggi stesso. Contatta a chi ti ha inviato questo messaggio e chiedigli tutte le informazioni.